Diciamo che c'erano stati già dei discorsi di corridoio, però niente di ufficiale. Poi c'è stata questa convocazione da parte del nostro Presidente. Siamo ovviamente tutti preoccupati perché oltre ai reparti che sappiamo già che purtroppo dovranno essere trasferiti, ci sembra un segnale che l'azienda abbia intenzione di sminuire un po' la sede qui a Genova. Che ti devo dire? Ecco, appunto, il timore è che l'emorragia vada avanti. Probabilmente l'emorragia andrà avanti, sono delle scelte in margine aziendali. Quello che principalmente credo siamo qua a contestare sono le modalità con cui queste vengono fatte.